Tre bocce sono stati lì, due montefiori e uno roncone. Grazie. 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 Grazie a tutti. Montefiori. Da dove c'era? Da dove ci va? Guarda in dettaglio. Il dettaglio. Ma lo va? In dettaglio. Ma lo va? Dai. Si. Grazie. 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 C'è ancora in mezzo. Dove ci vedo? Vedo. Allora, che ci dia? Viene un metro dietro, un metro mezzo dietro. Sette mesi. Anche un po' prima. Grazie. 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 Un po' prima cosa? Grazie. Grazie.